A me mi piace Don Gino, zame merda, santo Dio quanto sei bravo, autotune è uscito dalla chat. Sono Sergio Mattarella, ma è chiuso così velocemente lezione in presenza. Provo a scrivere cose belle, ma non mi mette mai allora scrivo questo, le mie orecchie stanno godendo. Siamo giovani affamati di pizza all'ananas, dobbiamo bere l'acqua dalla banana. A me mi piace Abidello durante la dad, ma perché mi stai ascoltando? Ma sul serio le persone guardano sto schifo, mettimi almeno faccio il cash.